Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a fare con te No, è venuta con te C'erano un paio di start che mi piacevano Qua E' arrivato il burger, un bambino Ciao mamma, c'è la burger Adesso andiamo a fare la spesa Amici Stiamo andando a fare la spesa E abbiamo trovato un nuovo negozio, giapponese Guardate che bello Come si chiama? Gamma Sagami Bello Sagami Ciao Grazie Auguri Diamo un'occhiata volentieri Auguri Grazie a voi Anche questo Il riso, vedi che piace a te, il riso bianco Guarda, questo lo guardiamo Bella anche lì, l'occhiata Sagami Ho saltato un po' di step, sono andata direttamente alla lista della spesa Ok, ho già una lista della spesa prestampata Metticini, cereali, frutta, verdura Spesce, cereali, aromatiche, cacette, potecine, animali, vegetali, dolci, condimenti e altro Che io ho già premarcato mozzarella, gallette di riso, orto, pane integrale, fagiolini, kiwi, lamponi, lattuga, mele, mirtilli, piattoni, no, pomodorini, zucchine, pannellini, ceci, salmone. Se fosse la domenica, pipe rigate al sugo di melanzane, insalata di patate al tacchino, faccio pranzo e cena, così facciamo prima. Fusili e gamberi, parmigiana di zucchine, sabato, gnocchi di mandorle, zuppa tiepida, lenticchie e patate, venerdì. Giovedì, risotto al grano, la ricetta, spezzatino, salmone al pesto. Ah, allora, la mia lista è questa. Le patate? Allora, eravamo rimasti, sì, al giovedì, risotto al grano e spezzatino di salmone al pesto. Invece, mercoledì, spaghetti alla crema di ricotta e limone, insalata di ceci. No, sto facendo proprio martedì, penne e cannellini, scaloppine, tacchino e chimio. Sì, riso al pesce a spada, non è lì? È un piatto unico di orzo la sera. Basta, finito. Adesso andiamo a prendere gli ingredienti che servono per la sera. Ci vediamo dopo per le ricette. Le melanzane. Adesso prendiamo... Il salmone. Il salmone. E' una mozzarella, se vuoi. E' lì. Quale prendiamo? Questa. Grazie a te. Grazie a te.